Le vacanze si avvicinano e siete in tanti a chiedermi qual è la fotocamera migliore che posso portare con me per fare delle belle foto durante le vacanze. Nel corso di questo video vado a farvi vedere un paio di macchine e a darvi in generale quella che è la mia filosofia per quella che deve essere la fotocamera perfetta per tutte le situazioni di svago e per tutte le situazioni di vacanza, in cui vogliamo quindi portarci a casa delle immagini carine, però senza andare in giro con l'astronave con centomila zaini. Seguite questo video fino alla fine e scopriremo insieme se siete pronti ad abbracciare questa filosofia un pochettino più light o se invece volete andare in giro con la strumentazione pesante come talvolta capita a me. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia per le aziende in contesti in cui spesso e volentieri non è la leggerezza a venire privilegiata quanto piuttosto la performance. Io devo sempre offrire una performance di un certo tipo ai miei clienti e quindi non è che sto a pesare la roba quando me la porto in giro per lavoro. Ben diverso è il contesto invece se sto andando in vacanza o comunque se sto facendo foto per piacere mio, magari durante una gita fuori porta, magari durante un viaggio. In quei contesti ovviamente non voglio avere uno zaino intero dedicato alla fotografia, preferisco essere leggero in maniera tale che riesco a godermi il bel tempo con le persone con cui ho deciso di fare la vacanza, ma riesco lo stesso ogni tanto a portarmi a casa qualche scatto carino perché anche in vacanza si sa noi fotografi non rinunciamo mai a far andare il dittino. Prima di cominciare vi ricordo se non l'avete ancora fatto di cliccare il bottone iscriviti proprio qui sotto in maniera tale da rimanere sempre aggiornati sul mondo della fotografia, del videomaking e del design. Andiamo a incominciare e vi porto quella che è stata una delle prime fotocamere diciamo un po' smart che ho avuto in vita mia. Ve ne faccio vedere una per farvele vedere tutte, questa qui è una Canon serie G, non stiamo neanche a stabilire quale, questa qui nello specifico è la Powershot G7X Mark II, non ha tanta importanza quale sia, l'importante è che è una compatta dalle prestazioni piuttosto alte. Le compatte di casa Canon di serie G sono delle macchine come potete vedere piccole, vediamo il confronto con un iPhone, cioè vedete che è più piccola di un iPhone, questo qui è un iPhone 15, questa macchina è più piccola dell'iPhone 15. Quindi sono delle macchine piccole che però hanno delle buone prestazioni, fanno video discretamente, fanno foto in maniera secondo me molto carina, sono superiori a uno smartphone di ultima generazione? Assolutamente no, per quanto riguarda la qualità d'immagine siamo lì, però questa ha molteplici vantaggi, intanto è un dispositivo dedicato, quindi possiamo usare il telefono per fare un'altra cosa o per comandare questa se è per quello, perché tramite l'app possiamo con il wifi andiamo a controllare la nostra macchina, usando quindi il telefono per altro che non sia scattare, ma possiamo anche semplicemente telefonare mentre facciamo la foto. In più con questa abbiamo lo zoom ottico, quindi non è uno zoom digitale, le nostre foto quando andiamo a usare lo zoom saranno di una qualità molto maggiore rispetto alla maggior parte degli smartphone, perché qui stiamo usando effettivamente il vetro per andare a zoomare. Inoltre questo qui è un dispositivo che presenta diverse feature semiprofessionali, nel senso che comunque abbiamo la compensazione dell'esposizione a ghiera, belle le ghiere, che bel rumore che fanno, abbiamo la ghiera dei modi, quindi possiamo andare a impostare automatico, video, priorità, tutto quello che vogliamo, abbiamo tutta una serie di bottoni, quindi possiamo fare diverse cose ed essere più efficaci rispetto a quando stiamo utilizzando uno smartphone, quando usiamo lo smartphone siamo un po' in automatico, invece con questa macchina possiamo lavorare in automatico ma possiamo anche lavorare in manuale, io con questa macchina ho fatto delle pose lunghe di 15 secondi, a 30 mi pare che non ci arrivi, tempo massimo 15 secondi di posa per fotografia notturna con il treppiedino da tavolo e devo dire se la cava abbastanza bene è meglio dello smartphone, è più divertente quantomeno, quindi questa è una macchina che assolutamente consiglio perché entra in una tasca, non occupa spazio, la batteria non dura tantissimo, questo qui ha un po' il suo tallone da kill, la batteria non dura tanto, però è una macchina che possiamo portare sempre con noi e facciamo 3-10 foto al giorno, non è che stiamo a fare foto tutto il giorno con una macchina come questa perché siamo in vacanza, non stiamo lavorando, quindi ne facciamo poche, ottima compagna di viaggio, io l'ho portata diverse volte e mi sono trovato molto bene con una macchina come questa, facevo le mie 10-15 foto al giorno ed ero anche abbastanza contento con la qualità che mi portavo a casa, ovviamente non ha la stessa qualità della fotocamera full frame che lasciamo a casa, è una macchinina compatta, di giorno non avremo problemi, di sera farà un po' più di fatica, però insomma siamo in vacanza, se vogliamo viaggiare leggeri è una soluzione molto carina. Per chi volesse qualcosa di più posso suggerirvi Canon EOS M, questa in particolare è la M50, ora è una linea che sta uscendo di produzione, anzi probabilmente è già uscita di produzione, si trova ancora qualcosina in qualche negozio, si trova ancora qualche pezzo soprattutto sulla Mark II, si trova sicuramente ancora qualcosa sull'usato, ma soprattutto questa linea di fotocamere ha delle discendenti che sono le nuovissime R50, R100. Vi parlo di Canon perché sono pezzi che conosco molto bene, probabilmente la maggior parte delle case ha qualcosa di analogo esattamente nella stessa fascia, quindi se volete andare a vedere Sony piuttosto che Nikon ci saranno anche lì delle mirrorless entry level che sono paragonabili a queste, io vi parlo di queste perché le conosco meglio, perché ci lavoro abitualmente. Qui come potete vedere siamo già in presenza di una fotocamera mirrorless con un obiettivo intercambiabile, questa qui in particolare, questo Canon è molto furba, questa fotocamera può montare anche le ottiche più progredite, quindi non le RF in questo caso specifico, ma le F sì, quindi è una fotocamerina piccola, in questo caso con una lentina da viaggio piccolina che però si adatta anche a delle ottiche più vistose, quindi compromesso interessante. Ma ora veniamo alla chicca del video di oggi, che voi sapete che io parlo sempre delle tecnologie Canon perché le conosco bene. Oggi vi segnalo che esiste anche un'altra compatta che è la Ricco in particolare, che ha fatto diversi modelli, quindi non ce n'è uno solo, andateveli a spulciare, vi lascio qualche link in descrizione. Sono delle compatte che sono molto interessanti perché io purtroppo non le ho mai provate, però diverse persone che conosco le hanno provate, me le hanno segnalate, è una macchina che sembra performare molto bene e sembra essere veramente perfetta per questo tipo di fotografia perché alle dimensioni molto compatte unisce delle prestazioni che sono interessanti soprattutto per la street photography e se una macchina ha prestazioni interessanti per la street photography ci si possono fare delle belle cose in vacanza perché è proprio quel tipo di contesto, quindi sono macchine volendo un po' più limitate, perché molte hanno l'ottica fissa e non intercambiabile, quindi sono delle scelte un po' più mirate e puntano proprio a chi sa un pochettino di più che cosa vuole. Ciò non di meno le ho trovati dei prodotti interessanti, ovviamente stiamo andando su un budget un po' diverso perché costano un pochino di più di quanto ho visto finora. In ultimo vi segnalo anche che la maggior parte delle fotocamere in commercio hanno delle dimensioni che possono sì sembrare voluminose ma possono essere ridotte di parecchio nel momento in cui andiamo a montare delle ottiche non troppo vistose, quindi per esempio se noi acquistiamo una full frame o una PSC qualsiasi e andiamo poi a montare un obiettivo pancake, quindi quegli obiettivi molto piccoli che sono pensati apposta per minimizzare gli ingombri otteniamo una fotocamera non compatta però comunque una fotocamera che sta tranquillamente in qualsiasi zaino, in qualsiasi bagaglio a mano con un peso molto ridotto. Quello è il tipo di contesto in cui riusciamo a portarci a casa delle fotografie non in qualche maniera delle fotografie belle, delle fotografie senza troppi compromessi, con una fotocamera bella che ci siamo scelti però con un ingombro comunque minimo. È il caso per esempio di ottiche come mi viene in mente sicuramente il 40 mm ma anche il 35 e il 50 mm di solito sono ottiche molto poco voluminose che quindi si prestano bene a queste tipologie di fotografia. In ultima istanza ragazzi vi ricordo pur sempre che una camera che non dobbiamo sottovalutare è questa qui perché se abbiamo in tasca un dispositivo che fa delle foto decenti e ormai tutti gli smartphone di ultima generazione fanno un lavoro se non buono comunque decoroso, se impariamo a conoscere la nostra strumentazione riusciamo comunque a portarci a casa qualcosa di decente anche solamente con un dispositivo come questo non è necessario avere per forza la fotocamera bella per tirare fuori qualcosa di carino da postare sui social o anche semplicemente come ricordo per noi. A questo punto però vi chiedo, fatemi sapere voi che cosa porterete in vacanza e io vi posso dire che in vacanza quest'anno porterò, come sempre ormai, porterò la Canon EOS R con il 14-35 mm è una combinazione che mi piace moltissimo per le vacanze, l'ho già usata in passato ho già anche postato su Instagram delle cose fatte con quella macchina credo proprio che userò anche questa ancora quest'anno fatemi sapere che cosa userete voi, vi aspetto nei commenti ricordate di scrivervi perché vi risponderò con degli shorts verticali. Amici è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video.